A nome dell'amministratore delegato, del presidente, di tutti i funzionari fino all'ultimo, per un'immagine che è veramente degna, lei è punito con 4, 4, no bottiglie di, cioè bottiglie di quelle buone. Allora mettiamo la posta dopo, ecco, ci sono i ripiani per questa libreria e quello che mi piace moltissimo da vedere all'interno, c'è la scala per mettere in posizione il ripiano che è necessario.